... ... Voi? Ormai! Voi? Voi! Voi? Voi.. Non toccarenon la palla? Non c'è mai più se non ti chiede la palla? Voi! Non ti pederebbe avere voluto tutti i suoi palestini? E? Ma come si dà... Non ci paga! Sì! Voi. Abbiamo smosso mezzo Viminale. Abbiamo smosso mezzo. 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 Grazie.